Sarà Porta Sant'Andrea ad aprire la piazza in occasione della giostra numero 135 dedicata a tanti viviani di domenica prossima 3 settembre, poi Porta Santo Spirito, Porta del Foro e Porta Crucifera, ne parliamo con Carlo Farsetti che te ne pari di quest'ordine. Quest'ordine secondo me è bello, mi piace molto perché sarà una gara ancora più avvincente, prima Sant'Andrea che in particolare al Bricica Stefano gli è sempre piaciuto partire per primo, Enrico magari meno e ha fatto sempre bene quando è partito per primo. Poi abbiamo Porta Santo Spirito che naturalmente negli ultimi anni sono sempre primi o secondi, loro sono abituati diciamo, Porta del Foro Terzi con l'esordiente Gabriele Innocenti, un garista quindi Andrea Vernancini è bravo e Gabriele diciamo l'esordiente ma per modo di dire perché l'ho visto, ho avuto la possibilità di conoscerlo per Montisi e vi posso dire che è un ragazzo veramente determinato e bravo. Ultimi invece Porta Crucifera che vengono da una ciosta di giugno, tutto sommato molto bella perché ricordiamo che Gabriele Carboni era arrivato da pochissimo con un sacco di polemiche al quartiere e nonostante tutto ha fatto una bella carriera, idem Filippo Fardelli che ha fatto secondo me la più bella carriera delle ciostre che ha fatto, quindi può fare solo che bene e migliorarsi ecco, quindi vedremo una bella ciosta secondo me. Come si chiuderà il caso Baby Doll secondo te? Secondo me correrà Vi aspettiamo allora poi tutti i giorni anche con Carlo per Dentola Giostra ogni sera alle 21 le prove da Piazza Grande